Il Friuli Venezia Giulia e il Veneto Orientale hanno una nuova televisione. Media 24. Informazione dal territorio, trasmissioni di approfondimento, speciali dalla regione e la grande musica di Italianissima TV, con spettacoli delle più grandi orchestre e programmi in esclusiva da tutta Italia. Sintolizza il canale 77 del digitale terrestre. Media 24. La televisione che cambia le regole. Media 24. La televisione che cambia le regole.